Prima di fotografare siti industriali è importante fare un sopralluogo e parlare con un responsabile. Valutate cosa potete e non potete fare, quali accorgimenti prendere dal punto di vista dell'abbigliamento e quali misure di sicurezza è necessario rispettare. Se dovete usare lampade a corrente, posizionate i cavi in modo tale da evitare disagi e problemi e verificate che la potenza degli illuminatori sia supportata dall'impianto elettrico. Quando scattate in un ambiente di lavoro, è bene tenere l'attrezzatura ben riposta nella borsa accanto a voi. Soprattutto nei reparti di produzione, verificate se e quali rischi esistono per la vostra attrezzatura, ad esempio polvere, liquidi e calore. Eventualmente procuratevi sistemi di protezione adeguati come sacchetti e schermi e rimanete a distanza di sicurezza da elementi potenzialmente dannosi. Se avete scelto come soggetto delle persone, è fondamentale che facciate loro firmare una liberatoria. Si tratta di un documento che attesta il loro consenso a essere fotografate secondo le modalità concordate. Una liberatoria contiene essenzialmente le vostre generalità, i dati della persona da fotografare, la destinazione delle fotografie, termini e condizioni della pubblicazione, eventuali compensi, riferimenti legislativi. Il documento deve essere firmato da entrambe le parti e ognuna deve averne una copia. Le liberatorie sono molto importanti in caso di contestazioni successive alla conclusione del lavoro. garantiscono un uso corretto dell'immagine e tutelano quindi sia il fotografo sia la persona ritratta.